Leggiamo i seguenti due problemi. Il primo, la somma delle lunghezze di tre segmenti è 78 decimetri. Sapendo che il segmento maggiore è doppio del minore e che il terzo segmento è i quattro terzi della differenza degli altri due, calcola la lunghezza dei tre segmenti. Problema numero due, dividi in tre parti un segmento lungo 33 centimetri, la prima è i due quinti della seconda e la seconda i cinque quarti della terza. Calcola la lunghezza dei tre segmenti. Troviamo dunque il primo dei due problemi, che dice che la somma delle lunghezze di tre segmenti è pari a 78 decimetri, sapendo che il segmento maggiore è doppio del minore e che il terzo segmento è il quattro terzi della differenza degli altri due, calcola la lunghezza dei tre segmenti. E' evidente come le lunghezze dei tre segmenti, andate a unire, ci danno un unico segmento grande, come indicato in alto a sinistra, col segmento AD. Vedete che è diviso allora in tre segmenti, AB che è il maggiore dei tre, poi abbiamo CD che è il segmento secondo maggiore e poi BC che è il più piccolo. Quindi il segmento AD, anche se il testo non ce ne parla, misurerà il segmento somma delle tre segmenti dati, ovvero 78 decimetri. Allora il dato numero 1 è AD uguale 78 decimetri. Inoltre ci dice che il testo, che il segmento maggiore è doppio del minore. E' evidente che il segmento maggiore è AB, il segmento minore è BC. Allora il dato numero 2, ho espresso solamente che AD, il segmento AD è dato dalla somma dei tre segmenti, AB il maggiore più BC il minore e poi CD che è il segmento di lunghezza intermedia. Il dato numero 3 è appunto che il segmento maggiore AB sia pari a due volte il minore, quindi il doppio di BC. Il dato numero 4 è che il terzo segmento, che ho indicato con il segmento CD, è pari ai 4 terzi, vedete, della differenza tra i due altri segmenti, quindi tra AB e BC, AB meno BC. CD quindi uguale a 4 terzi di AB meno BC. È evidente che qui ho rappresentato AB il segmento maggiore, BC eccolo qui è il minore, CD è il segmento, diciamo, quello intermedio cosiddetto. Abbiamo posto pari a X il segmento BC per esempio, ora se BC è X è evidente che AB allora il segmento AB maggiore sarà due volte X e quindi, mettendo questo X nel dato numero 4, abbiamo che CD è pari a 4 terzi di 2X meno X, quindi CD è 4 terzi X. Allora possiamo andare a studiare tutto quanto nell'equazione del dato relativo al punto 2, quindi AD che è 78 e pari ad AB che è 2X più BC che è X più CD che è 4 terzi X. Ecco qui l'equazione quindi lineare numerica intera, 78 uguale a 2X più X più 4 terzi X, ovvero otteniamo che, facciamo un minimo con un ultimo che è 3, 3 per 78 è 234 uguale a 3 per 2X è 6X, 3 per X è 3X e 3 diviso 3 è 1 per 4 per X è 4X. Quindi l'equazione diventa 234 uguale a 6X più 3X più 4X. Sommiamo, otteniamo che 6X più 3X è 9X più 4X è 13X uguale a 234, quindi dividendo ambedo i due mesi per 13 otteniamo che X è uguale a 234 tredicesimi, quindi X uguale a 18, ma X è BC, quindi BC è pari a 18 decimetri. Allora di conseguenza AB che è 2 volte X, 2 per 18 è 36, quindi AB è 36 decimetri e infine CD è 24 decimetri. Chiudiamo ora il problema numero 2 che dice così, dividi in tre parti un segmento lungo 33 centimetri la prima, i due quinti della seconda e la seconda i cinque quarti della terza. Calcola la lunghezza naturalmente dei tre segmenti. Eccolo qui il segmento totale, dato dalla somma dei tre, evidentemente AB più BC più CD. In questo caso ho supposto AB il segmento più piccolo, BC il più grande e CD, diciamo, quello intermedio. Ho scritto naturalmente che il segmento totale, ovvero quello che è diviso in tre parti, quindi l'ho chiamato AD, è pari quindi a 33 centimetri. Allora è evidente che AB, attenzione ragazzi, a come date i dati, perché in base a come scegliete voi le misure, quindi è chiaramente AB, essendo il più piccolo, è i due quinti di BC, che a sua volta BC, che è il più grande, e i cinque quarti di CD. Ora è evidente che il dato numero 4, ho scritto che il segmento di totale è dato dalla somma delle tre parti, dei tre segmenti, ovvero AB più BC più CD. Ecco AB, BC e CD rappresentati qui, con BC il segmento evidentemente maggiore di tutti quanti, ho posto CD, il segmento più piccolo, chilo scusa, il segmento intermedio CD, l'opposto pari a X, di conseguenza il segmento maggiore di BC, e quindi pari a cinque quarti di BC, quindi cinque quarti di X, e il segmento più piccolo dei tre, quindi AB, sarà due quinti, che moltiplica BC, ma BC è sette cinque quarti di X, e due quinti per cinque quarti di X, quindi in sostanza AB è un mezzo di X. Sostituendo queste tre relazioni, ovvero CD uguale a X, BC uguale a cinque quarti di X, e AB pari a un mezzo di X, tutto nell'equazione 4, nel dato dove c'è l'equazione AD uguale a B più BC più CD, otteniamo che AD, ovvero 33, è pari a un mezzo X, quindi AB, più BC che è cinque quarti di X, più CD che abbiamo posto pari a X. Minimo con un punto è 4, 4 per 33 è 132, uguale a 4 diviso 2, 2 per X è 2X, 4 diviso 4 è 1 per 5 per X è un più 5X, 4 diviso 1 è 4, 4 per X è 4X, a destra 2X più 5X più 4X è un 11X uguale 132, quindi dividendo ambi i due membri per 11, applicando come al solito il secondo principio di equivalenza delle equazioni, otteniamo dunque che X è pari a 132 undicesimi, ovvero X è pari a 12, e visto che X e CD, CD è dunque pari a 12 centimetri, CD lo ricorda il segmento intermedio, di conseguenza BC, segmento maggiore dei 3, sarà pari a 15 centimetri, ovvero 5 quarti per 12, e AB, il segmento più piccolo dei 3, sarà pari a un mezzo di X, ovvero la metà di 12, ovvero AB è pari a 6 centimetri.